La Polizia di Stato di Enna ha dato esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal GIP di Enna a carico di un pregiudicato residente nella provincia ennese indagato per violenze e maltrattamenti in famiglia, commessi contro la compagna convivente e aggravati dall'essere stati commessi in presenza di figli minori. La donna negli ultimi tempi ha presentato diverse denunce per i maltrattamenti subiti a opera del convivente raccontando di essere stato oggetto di insulti, vessazioni, minacce, percosse, umiliazioni, aggressioni e violenza a opera del compagno. Il clima di terrore e sopraffazione ha avuto il suo apice nel pomeriggio dello scorso 8 marzo, giorno della festa della donna, quando la vittima, al culmine dell'ennesima lite, è stata scaraventata a terra dall'ex compagno, colpita con calce alla schiena e al fianco destro, fino a riportare la frattura di una costola. In esecuzione dell'ordinanza, la squadra mobile di Enna ha allontanato l'uomo dall'abitazione coniugale, prescrivendo di mantenersi a una distanza di almeno 200 metri dall'ex compagna e dalla casa in cui avvenivano le violenze.